bonjour bon ami amici miei arcadage noi siamo in un paese mi sono dimenticato come si chiama ma vabbè un po' niente questo qua è un fiume si chiama lenne questo fiume qua adesso è piccolo ma poi scendendo si aggiungono altri fiumi e diventa un fiume bello largo assai qua non lo so quando è il tempo no? l'inverno mi sembra non lo so arrivano i salmoni dal mare e salgono tutti i ragazzi per agevolarli la salita hanno costruito una specie di scala diciamo così se si può dire così i pesci arrivano qua e cominciano a salire questa caletta diciamo così perché non ce la fanno a saltare da là fino all'assunto vieni con me ti faccio vedere meglio da vicino vieni vieni bené bené ho Ecco qua Loro salgono di là E entrano qua nel piume e continuano a salire fino là su C'è anche una chiesa, non lo so se è cattolica, penso di sì, che c'è una croce sopra Vabbè, comunque ho fatto vedere Ok Qua in tedesco si chiama Fischtreppe, sarebbe la scala per salire il salmone Questo si chiama un cure hall, sarebbe un posto da cura per gli ammalati di polmone eccetera Qua respirano aria fresca, aria pulita insomma Tutto bosco qua, dove vai e vai e vedi, è tutto bosco, guarda là sopra, sopra tu Ok, andiamo di qua Adesso è chiuso ma c'è una fontanella che fa un po' di fresco insomma agli animali insomma Ok, andiamo con me Come with me, I'll show you Come here, you can see, this is a beautiful place For people that have a little bit on the lung, lung, what's the name here, lung, the lung, sick And then you can braid here wonderful fresh air, you know, oxygen pur Ok, arrivederci Salaam Alaikum Hasta la vista Buonasera Ciao